Crea problema il fatto della stabilizzazione dei medici, cioè un medico di pronto soccorso prima di essere pronto e preparato ad assolvere da sola la cosa deve avere una certa formazione. Il problema è che noi abbiamo un continuo ricambio di medici perché prendiamo, man mano che vanno via quelli formati, pigliamo nuovi medici sempre a tempo determinato, questo significa, perché poi non capisco come mai ci sono alcune aziende che a un corso li fanno, noi non li possiamo fare però alcuni li fanno. Quindi questo significa che i concorsi che vengono fatti ci asciugano il personale che noi abbiamo formato e entra nuovo personale per cui il primario di Velletri Tesei è disperato perché la sua attività è continua formazione di medici nuovi che arrivano e devono lavorare. Ecco, quello che noi ci chiediamo però, perché ad un aumento dei medici da quando sono stati chiusi Genzano e Marino, quindi da un trasferimento di medici non è corrisposto anche un trasferimento degli infermieri, che fine hanno fatto gli infermieri del pronto soccorso di Genzano e Marino? No, no, anche gli infermieri, non è esatto dire che non sono stati trasferiti anche gli infermieri, anche gli infermieri, ove necessari, sono stati trasferiti. Tenete conto che a Genzano e a Marino non è che l'attività non viene svolta, cioè è stato semplicemente chiuso il pronto soccorso perché è stato dislocato altrove, ma lì c'è una piena attività da svolgere, quindi c'è chirurgia, ginecologia. Però se quelli erano infermieri comunque e che stavano nei pronti soccorsi, perché lasciare dei turni con due medici e soltanto tre infermieri, ad esempio in un pronto soccorso che ha 140 accessi quotidiani? Allora, la scarsità infermieri è la maggiore, in una precedente intervista lei mi ha chiesto che cosa chiederebbe da Polverini, 80 infermieri, perché è l'unica cosa che effettivamente scarseggia in maniera drammatica. Il fatto dei trasferimenti dipende dal fatto che il pronto soccorso poi assolve insieme all'attività che fa anche ad altre funzioni, quindi l'infermieri che stava a Genzano e che, o qualche infermiere che stava a Genzano al pronto soccorso, non è andato a Marino, semplicemente perché la sua attività poi era legata anche alla chirurgia, alla ginecologia e quindi ad altre attività. È evidente che l'infermiere è il punto fondamentale per un'assistenza sanitaria, è proprio il core di tutta l'azienda. La scarsità di queste risorse comporta il fatto che comincia ad essersi un problema di assistenza. Quei 23 milioni di euro destinati all'ampliamento del Paolo Colombo di Velletti, che fine hanno fatto e soprattutto si farà, si andrà avanti con questo progetto? Io presumo di sì, non credo che ci siano problematiche su strutture che hanno la necessità proprio di intervento. Nell'ottica di una rassolidizzazione che la Regione è costretta a fare e deve fare, lasciamo perdere come una destra e come una sinistra, comunque sia l'andamento è quello, non è un problema. Ci sono però degli interventi che sono estremamente necessari, quindi improcastinabili, non è possibile non farli. Interventi attesi anche dal pronto soccorso di Albano, dove pare proprio a giorni sia arrivato il nulla osta del Ministero, quindi si può procedere alla realizzazione della sala d'attesa e del triage sulla terrazza e così togliere quella sala d'attesa veramente poco dignitosa da un container e il triage da un posto dove non gli compete? Sì, il primo luglio, ce l'ho qui davanti, il primo luglio è arrivata la comunicazione da parte della Regione e quindi adesso il Comune ci darà la dia per poter iniziare i lavori e cominceremo subito i lavori. Era un tempo troppo lungo è passato per poter avere questa autorizzazione, cioè quando si parla di semplificazione bisognerebbe, specialmente per quanto riguarda opere che riguardano ospedali. Quanto tempo bisognerà attendere per aver realizzato quello che serve? Per l'avello realizzato io spero che per dicembre sia realizzato, però questo poi dipende, adesso dobbiamo fare la gara, le cose vanno fatte regolari perché non possiamo non stare attenti anche alle procedure, dobbiamo fare la gara e poi è chiaro che nei termini di gara metteremo dei tempi strettissimi alla ditta, cioè la ditta che vuole vincere dovrà mettere molte persone per poter lavorare velocemente, quindi tareremo la gara sotto questo profilo. Un problema evidenziato da queste inchieste è la mancanza di comunicazione con il 118, ad esempio ad Albano continuano a portare persone vittime di incidenti stradali quando ad Albano non c'è l'ortopedia, questo è un problema che si deve risolvere, come si può risolvere? Si può risolvere, semplicemente concertando col 118, noi abbiamo naturalmente scritto tutto al 118, cioè quali sono e come devono essere i movimenti dell'emergenza all'interno dei castelli, però poi capitano dei disguidi all'interno del sistema 118. L'unica cosa è concertare con loro in maniera chiara tutta la distribuzione dell'emergenza all'interno dell'area, quindi dovremmo, tra l'altro l'ortopedia non sarà settembre, ottobre, ma l'ortopedia da Riccia dovrà trasferirsi ad Albano, quindi probabilmente questa cosa lo risolveremo noi trasferendo l'ortopedia di Albano. A quanto pare molte cose dovrà risolvere l'azienda, visto il nuovo piano di rete proposto dalla neopresidente Renata Polverini, un piano di rete che prevede, secondo il patto per la salute, 4 posti letto per 1000 abitanti, ma in realtà nella sanità dei castelli romani e della Romacca ciò non avverrà, rimarranno gli stessi posti, forse anche meno, visto la riconversione di alcune strutture e non è previsto, visto il blocco del turnover, l'assunzione di nuovo personale, quindi come l'azienda da oggi intende risolvere il problema? Il problema del pronto soccorso secondo me, stando la situazione attuale e concordando sul discorso, io sono d'accordo che al pronto soccorso e all'ospedale ci si arrivi solamente nei casi in cui è necessario arrivarci. Dicevamo prima, il 70% delle persone che fanno accesso al pronto soccorso è tornato a domicilio, quindi è inappropriato, non aveva bisogno di andare al pronto soccorso. Quello che dobbiamo fare è quello che stiamo facendo adesso, per esempio su Roccapriura, creare la struttura intermedia tra l'ospedale e il territorio che dia risposta di salute sul territorio e quindi l'accesso al pronto soccorso deve avvenire solamente nei casi in cui è necessario. Allora in questo caso le risorse assegnate sono sufficienti. I posti letto a questo punto sarebbero anche sufficienti, non è un problema di allocazione di posti letto, il problema è evitare l'accesso al pronto soccorso quando è inappropriato e evitare il ricovero quando è inappropriato. Allora questo credo che sia l'unico modo per poter avere gli effettivi risparmi dando risposta di salute. A Roccapriura stiamo vedendo in occasione del trasferimento della broncoprenologia con il sindaco abbiamo subito concordato di istruire subito e creare lì il PTP che devono diventare il modello PTP che significa presidio di prossimità, ossia presidio vicino al territorio e lì dovremo creare il primo modello, è importantissimo questa fase, il primo modello che potrà essere ripetuto su tutti i distretti, per cui noi su tutti i distretti creeremo il presidio di territorio dove ci sarà un reparto infermeristico con i posti letto a gestione infermeristica, dove ci saranno i medici di Guardia Medica che visiteranno e avranno l'accesso a questi posti letto per poter ricoverare quelle persone che possono essere ricoverate in quella struttura, dove ci sarà la Guardia Medica, dove saranno le UCP e quindi dove ci sarà l'immediato afflusso della popolazione quando ha la necessità di avere un bisogno di salute. Poi quello dovrà diventare lo smistamento, cioè è necessario il ricovero? Sì, a questo punto è necessario il ricovero, cioè è il medico di frontiera che visita e dice se si è nel ricovero allora vai al pronto soccorso. Allora questo è il modo per intercessare la domanda, defluire il pronto soccorso, utilizzare i posti letto solo quando effettivamente sono necessari. Nell'ultima intervista il Vice Presidente dell'Aggiunta regionale Luciano Ciocchetti ha dichiarato che hanno bisogno di un anno per sistemare la sanità della Regione Lazio, dunque noi tra un anno torneremo a fare un'inchiesta sui pronti soccorsi per vedere cosa effettivamente è cambiato. Va bene.